Vi porterò di nuovo sulla terra con informazioni e condivisioni di collegamenti principalmente via Troppo. Ringrazio per l'invito ricevuto per essere qua oggi e onorato di essere anche insieme ai nostri 275 anni mi sei detto ma vieni tu che hai esperienza o comunque hai fatto attività dall'estero come si fanno i contest eccetera presentati un po' e dico vabbè adesso venire solo a parlare di me non mi sembra a caso molti mi conosco ci conosciamo da anni però ho fatto un suddiviso un pochino qui la presentazione in un po' chi sono io, chi avete davanti come relatore mi sono focalizzato sull'attività punto contest mia passata proprio come diciamo così elemento trainante e dopo di che come guest op quindi come persona invitata a partecipare in un team nello specifico di R9A Delta Roveo 9 Alfa quindi della Germania focalizzata tra l'attività contest VHF e UHF anche superiori e un po' di considerazioni quindi è di questo che stiamo parlando insomma tutto molto centralizzato focalizzato su un camion insomma un autoveicolo un traliccio e un sistema di antenne che nel tempo negli anni è cresciuto allora qua devo solo schiacciare questa qui per esempio bene sono nato a pane radio insomma forse non nato ma sto crescendo a pane radio cominciato con il cb a 13 anni da 86 a 16 anni non ho fatto non ho potuto fare ho fatto prima la licenza all'esame a 15 anni ero minorenne non potevo avere il denominativo quindi ho aspettato l'86 mi sono subito appassionato di contest in VHF e quindi ho continuato ho continuato qua magrado ecco faccio anche attività con il gruppo di Capoverde Delta 4 Charlie quindi un po' di nominativi l'ex S.U.L. ecco X3 0 DX la parte della mia famiglia abita in Kyrgyzstan quindi ho anche dimora lì quindi faccio un po' avanti e indietro e ho vissuto parecchi anni in Turchia quindi ho avuto modo di fare negli anni 90 un po' di prime attività meteoscatter ancora con l'UER report 4004 per passare all'innovativo DTR e fare meteoscatter da là poi appunto mi sono divertito dal 97 al 2007 a fare questo gruppo di HB9 MXR MS che vediamo è un po' nella prossima nella prossima slide ecco questa è un po' la classica attività dalle montagne svizzere o dalle montagne in generale abbiamo ottenuto un po' di risultati ecco primi posti europei sia in 70 centimetri che in 144 mega ci tengo particolarmente alle immagini in alto destra perché vediamo branco che è il relatore che lo vedremo dopo abbiamo un'amicizia di 25 anni già in questa occasione aveva fatto già progetti insieme o quantomeno collaborato in contest quindi trans frontalieri diciamo così questa è un po' un'attività fatta nell'anno 2000 poi ancora 2011 da pazzi un po' come si diceva che col Mario ieri sera a cena insomma c'è sempre un po' di pazzi a noi e a volte non misurabile da chi la fa da chi fa le cose qui si vede una stazione appunto di hb 9ms eravamo 1600 metri nella svizzera francese a ridosso del confine con il confine francese con otto gruppi di antenna solo per i 144 mega che ha impiegato quattro giorni per la costruzione e insomma qua l'obiettivo la passione proprio vincere i contest lo chasseron sopra i verdon le ben quindi tra 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 losanna e berna diciamo così cercherò anch'io di essere un po' veloci di di perché ormai mi sento un po sento un po la pressione dell'orario me la sento un po' addosso quindi cercherò di andare un po velocemente è piatto sul colo finché non è la scimmia va bene quindi di r 9 a partiamo è nato nel 77 di r 9 a quindi con il vecchio locatore non so quanti lo conoscano ancora soprattutto i giovani c'era un eco india 13 j che era una il vecchio sistema di quale allocatore in seguito passato gene 48 gt stazione fissa presso e delta chilotto sera golf quindi diciamo così il l'iniziatore del tutto da notare che ecco già dai primi anni 80 il concetto di mu di trasmettere in più direzioni e ricevere solo in direzioni specifiche era già stato applicato qua in germania da helmut nel 97 avuto la possibilità di acquistare questo camion che viene dalle 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 poste e quindi è stato trasformato in stazione mobile di contest e quindi da 2005 c'è il nominativo di r 9 a il l'automezzo punto come dicevo prima è il cuore insomma di questa stazione vedremo anche dopo il perché è un mercedes benz modello 911 del 64 pesa 900 kg e il traliccio a bordo tutto a bordo pezzi a bordo del di 37 metri qua si vede che è veramente molto molto insomma è datato molto spartano e di quell'epoca lì dopo il qth quindi qth scelto è sempre quello da ddr del terreno 9 alfa e al 48 gene 48 q si trova al nord della foresta nera quindi alla fine comunque sempre una situazione di di centrale in europa a circa 9 a mille metri di altitudine e quindi ogni qth e propri pro e contro nel caso specifico l'ottima apertura a 360 gradi faccia accessibilità in quanto c'è la strada che arriva fino lì sopra è già una possibilità di utilizzare di avere l'alimentazione elettrica grazie fantastico a questo avanti con lo basso in giù ma dovete tornare indietro così ecco perfetto e poi intera questo a bravissimo quello che cercavo e per contro essendo nella foresta nera ci sono alberi maggiori di insomma il lari cipini e queste cose qua insomma tipice della foresta nera da superare per avere delle condizioni di cioè per avere uno ottenere dei risultati per poter far funzionare una stazione radio in vhf superiori quindi possiamo vedere un classico esempio qui c'è una stradina che entra la stazione viene messa qui questo è la fotografia fatta da un drone dove insomma si vede tutta l'installazione e qui la si vede dalla torre che c'è che proprio sbuca sopra sopra gli alberi questa è una condizione obbligatoria per poter ottenere dei risultati da ubicazioni di questo genere quindi ovviamente qui l'obiettivo è sempre alto essere i primi in classifica non si può nascondere questo è l'investimento che si che si fa per arrivare a questo risultato e basati su un'ottima valutazione di tutti i log fatta dagli amici sloveni circa dieci anni fa dove veniva però un po diciamo indicato qual era il centro il centro dell'attività in europa analizzando più log quindi si poteva capire insomma bene quali fossero le zone più indicate per poter vincere o per rispettivamente per fare un punto un punteggio maggiore e i bacini del punto definito proprio i bacini di attività che tra l'altro li vedremo anche dopo in un'altra in un'altra slide però qui si possono vedere dove ci sono più la concentrazione delle stazioni che hanno inviato il log o addirittura che non presenti in radio non soltanto il log quindi ci sono delle valutazioni qui appunto basati diciamo sulla valutazione di queste di questa di questo studio che le stazioni alla periferia dell'europa diciamo così rispettivamente del centro d'attività possono vincere solo in condizioni di propagazione speciale quindi eccezionali o rispettivamente facendo risultati al di sopra delle della media insomma della norma e ci sono dei casi che 5 papacinque tango della danimarca ha fatto 472 mila punti con una media molto alta di 526 chilometri a questione 2013 dalla francia tango mai 7 golf tratto dalla costa atlantica quindi appunto svantaggiato molto svantaggiato da un punto di vista di copertura a 360 gradi riuscì ad ottenere 633 mila punti con una media di 800 con una media di 828 chilometri che altissima però appunto queste sono le condizioni eccezionali torniamo a noi centro dell'attività quindi noi siamo ubicati al centro dell'attività e si può vincere si lavorando ma anche in condizioni di propagazione mediocre normale infatti una delle medie fatto nel 2017 è di 443 chilometri questo con 1121 collegamenti a log e quasi 500 mila punti di esatto di 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 punteggio quindi qua entriamo un pochino su quello che sono il design le caratteristiche della stazione che quella alla periferia del centro dell'attività utilizzerà delle antenne più semplici o rispettivamente in direzioni selezionate quindi relativamente più semplice mentre essendo al centro dell'attività come per esempio dr 9a di a 0 fox fox delta radio 2x recus degli esempi tedeschi dovranno utilizzare una irradiazione più il più omnidirezionale possibile per raccimolare tutti i collegamenti tutti quso quindi ritorniamo alla sfida delle antenne dell'ubicazione di dr 9a le antenne devono essere sul unico traliccio perché devono superare le piante e sono state pensate tre possibili versioni tutte le antenne in cima a questa torre tutte le antenne intorno alla torre oppure una combinazione di queste due situazioni e con dei cavi quassiali che saranno lunghi circa 40 metri tra l'antenna e lo check e mettere le commutazioni di trasmissione per amplificatori naturalmente in cima al traliccio per abbassare la cifra di rumore cosa che abbiamo visto molto bene precedentemente quindi qui abbiamo alcune diapositive che ci indicano il sistema di antenne negli anni tra gli anni 2006 e 2012 quindi qua vengono definiti tre livelli insomma tre tre piani quello superiore alle due per 17 m2 a quello inferiore sei antenne in sei direzioni di nove elementi che praticamente una due tre quattro cinque in questa maniera qua ve lo vedremo dopo e una qua a livello del palo delle semplici quattro per sei elementi con i rotori infatti il 2 3 il secondo il terzo secondo livello di antenne su un unico rotore comune quindi con anche dei degli svantaggi a livello operazionale infatti questo abbiamo vediamo la direzione questo se vogliamo sono il 2 il livello 2 il livello 3 dove girano tutti insieme girano tutti insieme quindi dal momento che la stazione è concepita per utilizzare per aver due operatori sempre dal momento che giro l'antenna vado a svantaggiare il secondo secondo operatore che sta magari tentando di fare un altro collegamento qui comunque è stato misurato il lobo di diagramma di funzioni diciamo di radiazioni di questo sistema che abbiamo visto prima nel gruppo c'è delta fox 9 india charlie e henning chiedo scusa bravissimo ingegnere che segue tutta la parte di progettazione e di tecnica e soprattutto delle antenne e quindi si vedeva che questa situazione qui era bella ottima tante antenne ma comunque non ancora ideale per un diagramma omnidirezionale in quanto questo qui sono i 360 gradi se vogliamo e dove si vede dove ci sono delle prestazioni maggiori delle prestazioni minori girando le antenne quindi nel 2016 è stato deciso di migliorare questa situazione a fronte di queste verifiche di questi studio quindi sono state messe più antenne quindi di più è meglio si vengono aggiunte due per 4 per 6 con rotore e 2 per 9 fisse le vediamo qui quindi in quel momento lì c'erano 11 sistemi di antenna e una doppia copertura più direzioni da osservare che le antenne superiori quindi del secondo piano del secondo livello non sono mai quasi state utilizzate in eccezione non portavano dei benefici mentre le quattro antenne sovrapposte le quattro antenne sovrapposte hanno portato moltissimo moltissimo moltissimi questioni andavano qua ne andavano bene quindi è stata poi anche la scelta per proseguire nelle prossime versioni del progetto che vedremo quindi questo questo configurazione ha portato a 942 collegamenti un secondo posto in europa malgrado tutto era stato diciamo come conclusione con l'esperimento ha portato un risultato che era troppo complicato soprattutto a livello di di montaggio mettere insieme quindi l'aggregazione di più antenne diverse non non era soddisfacente e quindi si è pensato di riconsiderare tutto l'antenna tutto sistema d'antenna completamente da zero quindi si necessita nuova progettazione quindi gli obiettivi avere la trasmissione il più possibile omidirezionale ripeto trovandoci nel centro dell'europa e in ricezione poter selezionare le antenne in maniera tale di essere direttivi ovviamente per abbassare gli splatter avere il guadagno necessario per per selezionare la stazione che ci sta chiamando rispettivo in quel momento ma che copra ecco questo è chiaramente una della chiave che copra che copri 360 gradi senza necessità di rotazione questo perché per una velocità operativa quindi con un tasto abbiamo la stazione nelle orecchie e non doverla cercare con un rotore eccetera quindi come iniziare si riprogetta si simula e si costruisce avanti quindi le antenne selezionate sono state dei sei elementi di k7 zulu bravo accoppiati sul piano verticale con 16 decibel di guadagno nella direzione principale con un logo di apertura di 50 gradi di 50 gradi che è ottimo anche perché ci serve per poi ad ottenere il 360 gradi richiesto e appunto quindi il numero di stack da sei agli otto per coprire 360 quindi la conclusione dello studio sono state quindi otto gruppi di 4 per 6 il raggio significa sono soltanto molto nei dettagli sono andato molto veloce su questa cosa però diciamo la distanza tra il punto centrale e il punto del riflettore perché anche quello influisce ha influito sulla simulazione qua c'erano dentro ancora 10 slide di tutte le simulazioni fatte per ottenere la migliore distanza il migliore r diciamo valore di r che ho evidentemente evitato di di far vedere però c'è un problema comunque i riflettori si toccano con questa distanza quindi sono stati fatti due sottosistemi con un osset verticale quindi quattro direzioni su un piano e quattro direzioni sull'altro piano risultato tenuto è un po questo quindi qua vediamo la teoria sulla carta e qua vediamo una parte vediamo il lato pratico vediamo lato pratico questo per fare il classico contest da 24 ore insomma che molti di noi conosciamo cosa è successo però giustamente noterete le antenne sopra le quattro per 17 eccetera sono state completamente eliminate non hanno portato assolutamente nessun beneficio quindi si lavora ora solo ed esclusivamente con questo sistema omidirezionale e ricezione si comuta andiamo un pochino sulla parte di molto semplice schiama blocchi qui delle di quello che ha l'apparecchiatura quindi abbiamo le otto antenne con i vari come le commutazioni trasmissione ricezione e una matrice di preamplificatore perché ogni antenna ha il suo preamplificatore evidentemente e non commerciale auto costruito e misurato eccetera la parte trasmissione con i amplificatori sotto mentre per la parte ricezione si entra su un transverteria vornic per poi arrivare sui classici filtri acqua filtre acquarzo arrivare su due trasmittitori delle onde corte e avere i due operatori che possono in maniera indipendente andare ad agire sulla matrice di ricezione per avere l'antenna desiderata a proprio beneficio quindi quello che ho detto un po messo qua su nero su bianco entrambi gli operatori possono ascoltare completamente indipendenti una dall'altra antenna è possibile selezionare qualsiasi combinazione di antenna quindi non ci sono vincoli e quindi come se ci fossero otto antenne ci sono otto antenne per due persone sempre i vari diagrammi possono essere vari diagrammi di antenna possono essere ottenuti vedremo dopo e non c'è bisogno di girare antenne mai appunto parte 4 per 17 questo è ancora effettivamente un po un refuso della della vecchia configurazione sì quindi qua vediamo matrice di commutazione possiede questa qui è antenna 1 antenna 2 andare avanti antenna 8 stessa configurazione quindi c'è tutta una parte di preamplificazione di filtraggio di di splitter quindi segnali in questo momento viene diviso in due per essere reso disponibile alle due operatori e poi c'è combinatore 8 per 1 su quale si lavora questo è lo scatolotto che contiene tutto questo questo gioco uno scatolotto da 100 kg da tirare con una tramite una carrucola in cima in cima alla torre questa è una parte interna si vedono che questi qua sono tutti appunto i preamplificatori sono tutta la parte tecnica interna da interna alla scatola altra visione altra vista con fit tutti auto costruiti disegnati a circuiti stampati e tutte le realizzazioni e questa è un po la simulazione delle antenne ce ne erano molti di più ho preso questa qui che è molto più è molto significativa ossia questa è per esempio l'antenna in una direzione antenna 1 diciamo così infatti rx antenna 1 questo è il lobo dell'antenna 2 in un'altra direzione quindi l'antenna adiacente la miscela di 2 ci porta avere anche un lobo così che può essere molto interessante se abbiamo in risposta a una stazione che è appena appena al di fuori del lobo principale di una singola antenna quindi questo è un po il comportamento dell'antenna 1 e 2 insieme giusto infatti è questo è questo è il risultato esatto a entrambe le possibilità esatto è stato studiato così quindi qua passiamo un po dalla parte della insomma della realizzazione tutto molto metodico stati utilizzati tutti boom quadrati cioè tutti i profilati quadrati per semplicità di installazione diminuire gli errori il tondo scivola quadrato lo si sistema molto bene quindi anche questo è anni che si usa il tubo quadro la simulazione insomma questo qui è la dimane anche la partenza delle otto antenne quindi un pezzo di traliccio magari da così una piccola specifica il traliccio all'interno del camion sono tutti degli elementi da un metro e mezzo quindi sono tutti a bordo del camion vengono inseriti in una piattaforma idraulica la piattaforma idraulica fa salire il primo segmento lo blocca si inserisce il secondo ci sono dei ganci che blocca che girano passano attraverso da una femmina questi maschi sono forzati a girare e si sale fino a questi 37 metri com'è no questo è comperato questo il traliccio era già a bordo perché i due camion ce ne erano due cose in germania uno riuscito a trovarlo elmuth perché erano già allestiti dalle bundesposte dalle poste ed erano utilizzati per fare delle prove negli anni 60 a punto e punto avevano delle parabole a quindi serviva per proprio come stazione mobile per fare dei rilievi in campo e questi questo punto molto semplice il dipolo delle antenne cose semplici senza resina senza bicomponenti senza cose che nel tempo soffrono l'acqua eccetera ecco qua passiamo alla parte un pochettino più pratica quello che l'operatore vede all'interno della stazione quello che l'operatore ha disposizione per lavorare vediamo qui questa è diciamo è una parte di stazione questa è l'altra i due operatori sono sono molto vicini ognuno ha proprio monitor ognuno ha la propria radio e in condivisione c'è questo tablet android per la visualizzazione delle lezioni dell'antenne matrice in ricezione quindi qua vedremo nella prossima slide un po meglio sia la posizione in caratteri numerici che anche diciamo così i segmenti dell'antenna che attivate in quel momento e qui c'è un encoder rotativo quindi un semplicissimo selettore che c'è a capire che sia sul banco ecco qua la vediamo quindi magari spegniamo un attimino di tempo su questa su questa immagine le due stazioni sono sono evidenziate o distinti diciamo differenziate in base al colore quindi il giallo abbiamo l'operatore 1 rosso l'operatore 2 questa è la posizione dell'antenna che l'operatore sta dicendo sta selezionando in quel momento sta ascoltando in quel momento quindi 350 gradi e l'altro a 30 come se lo si vede qui e c'è tutto un minuto di configurazione questo permette in base a la propagazione in base della capacità dell'operatore magari anche linguistiche di selezionare delle finestre di sezionare diciamo così le zone cosa voglio dire con questo che per esempio l'operatore rosso l'operatore numero due potrebbe prendersi l'antenna questa 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 e questa e gestire soltanto il settore nord quindi est nord ovest e l'altro di conseguenza la metà inferiore oppure dividere così e gestire che ne so la germania e gli inglesi i francesi due volte no e quindi questo permette di essere molto flessibili nella nell'operatività e non solo c'è anche un tastino che permette di fare così un overlap permette di andare a rubare all'antenna del collega se lui non stesse ascoltando in questo momento cioè in questa non è proprio l'esempio giusto però diciamo ammettiamo che il non è giusto che questo che il color rosso fosse qua sotto e sarebbe l'operatore è qui sta ascoltando questo il giallo si rende conto che c'è qualcosa qui quindi c'è ancora una una levettina che va a prendersi l'antenna del suo compagno diciamo così c'è un'estensione del del campo questi sono un po dei numeri così per capire cosa si fa da quella da quella posizione a livello a livello di di numero di stazioni quindi qua vediamo parte le distanze vediamo un po le stazioni fatte quindi 18 della croazia 428 della germania che comunque fa sempre a parte la vicinanza ma fa sempre grande bacino importante e 176 francesi 119 italiani buonissimo e 101 cecchi quindi ci sono dei bei dei bei numeri bacini ci sono anche da l'acqua e qua si possono vedere alcune distanze insomma mi sembra siano distanze medie queste qua poi questa è una cosa carina tra l'altro si raggiungibile online l'associazione dei radiomotori francesi ref mette a disposizione un tool di analisi dei log e quindi inserendo il vostro log vi lascerà tutta la statistica con questo allora la distanza ma i primi bei best dieci collegamenti migliori dieci collegamenti la direzione delle antenne cioè la direzione dove sono stati fatti i questo eccetera e anche questa mappa che se vuole se volete riprende quella dello studio sloveno dove ci fa vedere che la concentrazione dell'attività o questo per quanto riguarda di r9a lo si fa in qualsiasi maggiori la maggior numero di stazioni anzi di punti viene da gio 31 per poi andare a scemare nelle altre zone però si vedono bene in questo caso qua l'influenza delle alpi l'influenza dei vosgi e si può capire anche già cosa dove magari non vale la pena investire in antenne risorse oppure dove vale la pena concentrarsi ecco questa è una bellissima mappa oltre alle altre che vengono appunto rese disponibili purtroppo nel 2019 ci tengo a a comunicarlo perché comunque una persona che me ne è stata nel cuore è venuto a mancare in sei mesi Helmut che è stato era il titolare, il proprietario dell'automezzo e l'iniziatore di tutto questo quindi la locomotiva e diciamo che il gruppo non si è non si è distrutto tutt'altro sono stati fatti i passi necessari per salvare diciamo l'automezzo le antenne è stata rivista naturalmente un po' la tecnica ma c'è stata una cosa molto positiva che c'è stata una rinascita e quindi si sta andando avanti magari da questa grave perdita e un'ulteriore nota insomma così negativa l'anno successivo dopo essere ripartiti un'altra botta gli ultimi 12 metri dell'antenna è caduta a terra fortunatamente senza vittime senza feriti solo danni materiali è stata una combinazione fortuita appunto uno di quei ganci che blocca il traliccio non si era agganciato il secondo perché se ne sono tre il secondo è stato svitato dai cavi consiali magrado siano sempre fissati saldamente il traliccio hanno fatto un po' di sbattimento e hanno pian pianino sganciato il secondo e il terzo poverino quando è arrivata una folata di evento non ha potuto contrastare la cosa ed è caduto si è schiantato tutto a terra bene passiamo però a fuori risultati infatti perché comunque il 2017 come abbiamo visto prima è stato l'anno di una nuova configurazione e qui ha portato le cifre in rosso quindi i QSO sono passati sempre al di sopra dei mille unità al di sopra dei 1100 bravo giusto ottima osservazione al di sopra dei 1100 quando qua si arrivava proprio appena appena il numero di punteggio insomma qua c'erano i 500.000 qui anche qui chiaramente il netto qui siamo scesi qui avevamo dichiarato primo posto abbiamo fatto un miglior risultato davanti a Sierra november 7 Lima loro sono stati bravi hanno avuto un log molto più pulito molto più corretto noi no e quindi ci siamo presi il secondo posto quindi conclusioni sulle modifiche che il 2017 è stato l'anno della rinascita un po' quello che dicevo prima ma non visto che Helmut è mancato dopo nel 2017 era stato appunto fatto già questo passo tecnico per ripartire con la stazione progettazione e realizzazione di un nuovo sistema di antenne vero che sia un omine direzionale vero costruite le antenne la matrice di ricezione distribuzione tx insomma è stato fatto un bel investimento in tempo in termini di tempo e anche in termini di denaro quindi quello che ci ha dato che immediatamente la partecipazione ai contesti di maggio giugno luglio settembre novembre subito 20% in più del punteggio quindi era stato misurabile o si è misurato il lavoro fatto 2019 come atto perito ad uomo di punta nel 2023 oltre 500.000 punti a conferma della vincita possibile senza condizioni speciali di propagazione quale stazione nel centro dell'attività europea arriviamo ecco questo che abbiamo fatto nel 2023 c'è tanto rosso insomma è bello è una bella una bella carta questa qui qua si vede che ci sono un pochettino di impedimenti fisici quelle ma sono le montagne c'è poco da fare però ecco questo è si vede molto bene insomma il 1000 km siamo arrivati da Sierra Vittorotto PAX qua sotto là sopra in Golf Mike insomma sono belle e questo tutto con delle 4x6 alla fine della fiera perché di questo che si sta parlando solo con fra virgolette delle 4x6 niente antenne lunghe 9 metri 10 metri problema di vento problema di tirantatura cuscinetti che si spaccano rotori che si spaccano eccetera vedo che adesso interessa questa dimmi tutto poco 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 si si no no ho poco questo più un paio di considerazioni l'ingraziamento è finito setup interno attualmente le radio sono state trasformate nel nico 7004 che lavorano comunque sempre sulle onde corte sempre gli avornic e questi i famosi commutatori rotativi stazione molto pulita molto semplice calcoliamo che siamo all'interno di un camion e quindi considerazioni personali il mio avvicinamento al gruppo di Arena OVA è avvenuto dopo la fine dell'attività di MS in quanto troppo onerosa per me in termini di sforzi perché poi eravamo in tre quindi non si riesce a fare una cosa così tutto è andato da un incontro alla Fiera Cambradio di Fiedi Schaffen quando Helmut mi ha sollecitato di andare a trovarli anche perché come parlavamo col gruppo di Sierra 50 Charlie i contesti in VHF iniziavano per lui a diventare monotoni a causa di assenza di competizione e di team importanti con i quali misurarsi noi mettiamo fuori un'antenna di questo tipo qua detta un po' in maniera modesta e vinciamo ma dove è l'interesse dove è il bello e quindi siamo partiti forse anche dando spunto ad altri team in Europa per dire ok ci risiamo nuovamente possiamo ripartire con delle battaglie con delle riattrezzarsi e fare una nuova sana competizione io penso che questo sia stato colto penso che DR9A è stata anche parte di questa nuova motivazione che si era andata un pochino secondo me si era un pochino spenta per quanto mi riguarda ho dei riconoscimenti da fare quindi a Henning stesso Delta Fox 9 India Charlie per avermi dato questa falla di presentazione perché comunque ho bisogno delle informazioni di prima mano DL8A Alfa Uniform anche seconda persona molto importante di DR9A a livello di pianificazione eccetera quindi ottima informazione ricevuta anche da lui e tutto il team di DR9A per l'accoglienza ricevuta qua alla guest hop in quanto sono così sono sono tale un guest hop non ho niente a livello di non ho partecipato delle costruzioni meccaniche eccetera Martin di L5NH il nostro fotografo che fa bellissime pubblicazioni su YouTube le fotografie eccetera e poi ci sono maggiori informazioni sulla pagina web Facebook Twitter e poi naturalmente io ci sono parlerò volentieri di questa bellissima esperienza grazie per avermi invitato grazie 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 grazie